Estra e Mucchi presentano l'operazione a premi più energia in famiglia raccogli 10 prove d'acquisto che trovi su tutti i cartoni da un litro e mezzo di latte fresco Mucchi PD e avrai subito in omaggio 50 euro di energia se passi ad Estra per le tue forniture di gas e luce Estra, la vita si accende